Un'importante iniziativa unica in Abruzzo, la prima in Abruzzo è stata presentata solo nel Comune di Roma quest'app, questo numero verde, dove si può avere un contatto diretto per aiutare i detenuti ma la cosa che ritengo assolutamente importante anche e soprattutto per i familiari e per i minori che spesso vivono un disagio quando hanno dei congiunti che magari sono detenuti e l'attenzione ai minori credo che sia una cosa molto molto importante per cercare di farli essere meno emarginati di quanto siano in realtà.